Sono 114 gli episodi di spaccio documentati dai carabinieri di Niscemi tra il giugno e l'agosto del 2021 e che sono costati l'arresto per una coppia di coniugi del paese. In manette sono finiti Giacomo Buccheri, 32 anni, e la moglie Marianna Lucia Amato, 31 anni. Nei confronti dell'uomo il GIP del Tribunale di Gela, Roberto Riggio, ha disposto la custodia cautelare in carcere, mentre per la moglie di quest'ultimo è stata decisa la misura degli arresti domiciliari. Una terza persona invece è indagata a piede libero per favoreggiamento, in quanto, secondo l'accusa, aveva aiutato i due presunti pusher a eludere le indagini. Ma il giudice in questo caso ha respinto la richiesta di applicare la misura del divieto di avvicinamento a Buccheri Amato, avanzata dal sostituto procuratore della città del Golfo Luigi Lovalvo. Un lavoro certosino quello portato avanti dagli investigatori dell'arma di Niscemi, che hanno documentato i vari episodi di spaccio di cocaina, hashish e marijuana, grazie a una serie di appostamenti e pedinamenti, nel corso dei quali i militari hanno realizzato numerosi filmati, in base a quanto si evince dalle oltre 100 pagine dell'ordinanza del giudice. L'indagine è partita dopo una segnalazione arrivata alla stazione dei carabinieri. Successivamente i militari avevano anche eseguito diverse perquisizioni, nel corso delle quali avevano trovato e sequestrato stupefacenti, capendo così di essere sulla pista giusta. Grazie a tutti.